La città di Trani si prepara a vivere un'indimenticabile notte di San Silvestro con il ritorno del celebre cantante Raff, che secondo le prime indiscrezioni sarà protagonista di un concerto nel porto turistico. Dopo l'entusiasmante successo dell'estate, quando è incantato il pubblico con la presentazione del suo libro in villa comunale, Raff farà nuovamente tappa nella perla dell'Adriatico per un concerto straordinario durante l'ultima notte dell'anno. E poi lo interpretai come un addio senza chiedere perché... La città di Trani, che già aveva ospitato l'artista durante la calda stagione estiva, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere Raff e il suo repertorio iconico. L'indiscrezione della sua presenza ha scatenato una curiosità palpabile tra gli appassionati di musica e i residenti, con l'entusiasmo che cresce con l'attesa. Un rapporto speciale, quello dell'artista originario di Margherita di Savoia, con la sua terra d'origine, la Puglia, rimarcato anche durante la sua visita a quest'estate, trasformata in un concerto andato totalmente sold out. Un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. La Puglia è veramente speciale, ma anche quell'umanità, quell'umanità che io ricordo sì dall'infanzia, che poi te la ritrovi quando torni. Ed è sempre una grande emozione riscoprire che in fondo poi non è tutto cambiato. Il Capodanno in piazza diventa così uno degli eventi clou del ricco cartellone natalizio di Trani, che verrà presentato nelle prossime ore. La città si prepara quindi a celebrare l'arrivo del nuovo anno, con note indimenticabili, atmosfera festosa, grazie alla magia musicale di Raff, che dopo aver registrato il tutto esaurito in estate, promette di regalare emozioni ancora più intense e straordinarie, per chiudere il 2023 con un tocco di eleganza e passione musicale. Grazie a tutti.